Quando un amore termina, spesso l'epilogo è doloroso, ma a volte uno dei due ex-partner non riesce proprio ad accettarne la fine. Questo è successo ad un uomo di Vittoria, nel ragusano, arrestato per stalking dalla polizia dopo aver appiccato il fuoco all'automobile del nuovo compagno della sua ex-moglie. La coppia si era separata tre anni fa, mentre la donna, dopo diverso tempo dalla rottura, aveva cominciato una nuova relazione con un altro uomo. Il nuovo amore era stato però tenuto nascosto proprio dalla donna per paura di ritorsioni da parte dell'ex-marito, il quale, di fatti, dopo che la relazione della donna divenne pubblica, comincia ad inviarle minacce telefoniche e poi verbali. L'arrestato è stato accusato di aver generato uno stato d'ansia grave e perdurante alla ex-moglie, nonché ingenerato in lei un fondato timore per l'incolumità propria e dell'attuale compagno, costringendoli a cambiare abitudini di vita e a non recarsi più a Vittoria. In un'occasione, l'uomo avrebbe incontrato l'ex-moglie in un locale pubblico e inveito contro di lei, insultandola e minacciandola. La donna avrebbe così deciso di trasferirsi con l'attuale compagno a Ragusa, ma la situazione non sarebbe migliorata, fino all'evento che ha portato all'arresto, l'incendio dell'auto del nuovo compagno.